Continua a bruciare la com Italplast in via dell'artigianato a Montemurlo. I vigili del fuoco stanno lavorando ininterrottamente da ieri sera e continueranno per i prossimi due giorni almeno. Dei 3.000 metri quadrati di capannone è rimasto ben poco e una volta concluse le operazioni di spegnimento dei focolai, i vigili del fuoco coordinati dal sostituto procuratore Antonio Sangermano potranno compiere accertamenti e fare valutazioni più approfondite sulle cause che hanno scatenato il rogo. L'ipotesi più probabile è al momento quella del cortocircuito potrebbe essere stato un muletto lasciato in carica a originare l'incendio. È ancora presto però per abbandonare del tutto altre piste. Il titolare Paolo Nutini è stato a lungo interrogato dai vigili del fuoco per ricostruire quanto accaduto. L'azienda ieri sera ha chiuso intorno alle 18.30 come al solito. Meno di un'ora dopo le fiamme stavano già divorando tutto. I rilevatori di fumo sono subito entrati in funzione ma la plastica è un ottimo acceleratore e quando i pompieri sono arrivati le fiamme erano già alte. Stamani i tecnici dell'Asla e dell'Arpat sono tornati in via dell'artigianato per una serie di rilevazioni. Insieme abbiamo ritenuto che non ci sono le condizioni per al momento di emettere nessun provvedimento. Il tempo in questo caso ci sta aiutando e la situazione è sotto controllo. Disposto invece il presidio dell'impianto di depurazione Gida del Calice dove arrivano le acque raccolte nelle fognature della zona industriale di Montemurlo. Presidio a scopo precauzionale per prevenire eventuali problemi dovuti a sostanze inquinanti. Esclusa la presenza di amianto, la copertura del capannone era stata sostituita recentemente da pannelli in lamiera e da pannelli fotovoltaici. La Comitalplast è un'azienda storica del distretto. Aperta nel 1971, commercializza materia in plastica per la precisione polimeri termoplastici provenienti dal settore petrolchimico. A Montemurlo la sede centrale, altri stabilimenti a Torino, Milano, Venezia, Macerata e Napoli. 35 i dipendenti. Preoccupazione per i posti di lavoro anche se alcuni di loro si sono detti certi che basterà trovare un altro capannone per riprendere l'attività. Il Comune si è già reso disponibile a fare la propria parte per individuare uno spazio adeguato. Stamani intanto si sono fatti vedere anche gli addetti della Belfor, azienda specializzata in bonifiche e risanamenti in seguito a sinistri di qualsiasi tipo, incendi compresi.